Musica Mezzogiorno e un minuto, buon inizio di settimana in compagnia di TG2000. In primo piano l'emergenza maltempo che ha messo in ginocchio la Calabria, la situazione più allarmante nella Locride sul versante ionico Regino. Ferrovie di Velte, strade cancellate dalla furia delle acque, paesi isolati e crolli. E purtroppo si conta anche una vittima. Le ultime da Luigi Ferraiolo. Dolore e pioggia per Calabria e Sicilia, duramente colpite da una forte ondata di maltempo che ancora non termina. Dopo la vittima di sabato nel Regino, Salvatore Comandè, il cui corpo è stato ritrovato solo ieri mattina, la situazione più grave sulla costa ionica della provincia di Reggio Calabria e nello stesso capoluogo. Il torrente ferruzzano è esondato spazzando via la statale 106 Onica e la ferrovia che in un tratto è rimasta sospesa nel vuoto. Bloccati i treni e le strade principali, la zona ancora grave è lo stesso capoluogo, dove i vigili del fuoco hanno 200 interventi di emergenza in corso. A colpire in particolare la provincia di Reggio Calabria è stato un ciclone con 600 millilitri di pioggia in due giorni e 20 fino a 80 chilometri orari. Tutti i corsi d'acqua sono ancora oltre il limite di sicurezza e l'esondazione del torrente ferruzzano ha spazzato via la massicciata della linea ferroviaria fino a Brancaleone, lasciando i binari appenzolare nel vuoto. E un lungo tratto della statale 106, la superstrada dei sogni dei calabresi, distrutta. Statale che è stata frantumata in altri quattro punti nella notte. Ammessi dalle piogge torrenziali hanno provocato allagamenti stradali, smottamenti e isolato intere frazioni del capoluogo ficiliano. Nel centro storico di Enne è poi franata una strada, scuole chiuse a Catania. Con l'ultima ondata di maltempo fa le a circa 300 milioni di euro il conto dei danni provocati all'agricoltura in Ficilia, secondo la Col di Retti. Il maltempo però non ha fermato nella Locride mani criminali che hanno colpito una cooperativa sociale. Nel mirino di nuovo il consorzio Goel Bio che aggrega aziende agricole del territorio che si oppongono all'andrangheta. Nell'agriturismo a lanterna di Monasterace, socio della cooperativa, qualcuno si è introdotto nel capannone dove sono conservate le attrezzature e lo ha incendiato. Stiamo vedendo le foto. Distrutta la struttura, compresi un trattore. I danni potrebbero ammontare a circa 30 mila euro e proprio all'inizio della raccolta degli agrumi, tra l'altro. Si tratta della settima volta in pochi anni che proprio questa azienda viene presa di mira. Tutti atti intimidatori rimasti impuniti denunciano dal consorzio. Altre denunce invece, quelle di 36 commercianti e imprenditori di bagheria stanchi di pagare il pizzo ai boss. Hanno invece permesso l'arresto di 22 persone alle porte di Palermo. Si tratta di una rivolta senza precedenti in terra di mafia. Tutto è cominciato con tre imprenditori che si sono presentati spontaneamente ai carabinieri, raccontando i soprusi subiti. Gli altri poi sono stati convocati in caserma e hanno ammesso di aver pagato il pizzo. Uno di questi si era indebitato fino al collo ed era stato anche obbligato a mantenere la famiglia del boss in carcere. Tutto si è protratto per 20 anni. L'uomo è finito sul lastrico e ha dovuto chiudere l'attività. E adesso la cronaca che ci porta a Viterbo per una serie di arresti per fermare lo spaccio di droga. Davanti alle scuole superiori i carabinieri hanno eseguito 21 ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di un esteso traffico di stupefacenti e fra loro anche minoregni. In corso inoltre 28 perquisizioni in casa. Passiamo adesso alla politica con l'arrivo a Roma del nuovo commissario Tronca ma ci sono novità anche sul fronte pensioni e in queste ore si apre di nuovo un caso tavecchio per alcune frasi pronunciate dal presidente della Federcalcio e su questo ci aggiorna Augusto Cantelmi. Ieri l'incontro con il Papa Oggi con il presidente della Repubblica Mattarella il neocommissario della capitale Francesco Paolo Tronca torna al verano per la commemorazione dei militari caduti dove era presente anche il prefetto Gabrielli. Tra poco invece il primo colloquio a Palazzo Chigi con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Vincenti sull'agenda del neocommissario in attesa del primo faccia a faccia con il premio a Renzi previsto in settimana i fondi per il giubileo straordinario e la squadra di governo della capitale l'oramai celebre Dream Team. Ma oltre al capitolo Roma l'esecutivo deve affrontare il tema pensioni dopo il nuovo affondo del presidente dell'Inps Boeri nella trasmissione in mezz'ora che chiede il taglio fino al 12% agli assegni superiori agli 80.000 euro. Innanzitutto per i vitalizi i tagli sarebbero abbastanza consistenti. Noi proponiamo di equiparare i vitalizi a delle pensioni. E quindi diciamo che per importi dei vitalizi superiori agli 80.000-85.000 euro all'anno si possono prevedere anche delle riduzioni che arrivano fino al 50% dei vitalizi. Intanto una nuova bufera coinvolge il presidente della Federcalcio Tavecchio. Dopo quella sui neri in una conversazione telefonica il numero uno della FGC si scaglia contro omosessuali ed ebrei. Parole inaccettabili. La protesta dell'ambasciatore israeliano in Italia. Veniamo all'emergenza immigrazione. Pensate, nel solo mese di ottobre hanno attraversato il Mediterraneo 218.000 migranti, più di tutto il 2014. Un dato evidentemente drammatico che dà il contesto ai continui naufragi nel mare Geo e all'imminente apertura degli hotspot di identificazione in Italia. Marco Bergamaschi. Il naufragio per le avverse condizioni meteorologiche di tre carrette del mare sovraccariche di cittadini afghani e siriani dirette verso l'isola di Lesbo a largo della città turca di Canakkale ha causato l'altro ieri l'ennesima strage del mare nella quale ancora una volta a pagare il prezzo più alto sono i più piccoli nonostante i soccorsi si sono registrati quattro morti tra i quali tre bambini e ieri in un altro drammatico naufragio davanti all'isola di Samos un'imbarcazione di fortuna è fondata causando 11 morti compresi 6 bambini di cui 4 neonati e 5 donne. Nel solo ottobre rende noto l'UNHCR sono state oltre 218.000 le persone migranti in cerca di asilo politico che hanno attraversato il Mediterraneo ed è un nuovo preoccupante record in un mese sarebbero arrivati più migranti che in tutto il 2014 intanto l'Italia entro novembre deve attivare quattro hotspot ovvero luoghi dove identificare e smistare rifugiati e migranti in arrivo all'interno del recente accordo raggiunto dall'Unione Europea una delle strutture individuate è il centro di accoglienza di Pozzallo in Sicilia. Per quanto riguarda i cambiamenti che sono stati appunto già preannunciati e indicati dal Ministero siamo pronti ad adeguarci alle direttive ministeriali e da operare come da hotspot procedendo a tutte le attività, le procedure che occorrono e trasferendo quindi i migranti secondo le indicazioni. Intanto continua l'accoglienza dei profughi nei paesi europei tra i quali la Germania dove sta facendo notizia la storia di un piccolo paese nel nord della Germania assunte circa 100 abitanti che si prepara ad accogliere 750 richiedenti asilo alle preoccupazioni della gente sono giunte le rassicurazioni del Ministro dell'Interno. In Turchia adesso, il giorno dopo il voto che ha riconsegnato il paese nelle mani di Erdogan nel sud-est a maggioranza kurda esplosa la rabbia per un risultato inatteso. Federico Plotti Il presidente Erdogan ha vinto la sua scommessa ha riportato la Turchia al voto dopo solo cinque mesi stravincendo le elezioni. Il suo partito, la KP ha sfiorato il 50% delle preferenze conquistando la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento 315 su 550 40 in più di quelli che servono per governare il paese in tutta autonomia anche se ancora non abbastanza per cambiare unilateralmente la Costituzione. Nonostante l'ombra dei recenti e sanguinosi attentati terroristici nonostante la ripresa delle ostilità con il partito filo-curdo e il rilancio della guerra con i separatisti del PKK nonostante in molti lo abbiano etichettato come l'artefice di una vera e propria dittatura che oscura e censura ogni opposizione e impedisce la libera circolazione delle idee imponendo con la forza il proprio punto di vista nonostante tutto questo la Turchia ha dato fiducia ancora una volta al suo condottiero. Su ogni considerazione sembra proprio aver vinto la voglia di sicurezza e di identità. Altissima l'affluenza alle urne quasi il 90% si è recato al voto consapevole che questa tornata elettorale rappresentava un passaggio fondamentale nella storia del paese una prova di forza dell'intero establishment di Erdogan che adesso con la maggioranza assoluta in tasca chiede rispetto anche e soprattutto alla comunità internazionale. Per l'opposizione invece è arrivata una sonora sconfitta in particolare per il partito filo-curdo dell'HDP in netto calo rispetto alle precedenti elezioni ma che resta comunque in Parlamento riuscendo a superare solo per un soffio la soglia di sbarramento una delusione coccente che si è presso trasformata in collera e rancore quando l'esito del voto era ormai chiaro tra la minoranza kurda esplosa la rabbia contro la polizia. Scontri e proteste si sono verificate in varie zone del sud del paese soprattutto nelle città di Diyarbak e Nuseibin vicino al confine siriano dove in serata esplosa un'autobomba ci sarebbero una ventina di feriti. Passiamo agli aggiornamenti sul disastro aereo che ha provocato la morte di 224 persone il fatto che l'Airbus 321 precipitato nel Sina e si sia spezzato in volo ha fatto sapere la compagnia russa Metrojet esclude che la causa sia stata un'avaria o un errore umano dunque l'ipotesi è che lo schianto sia stato dovuto ad azioni fisiche o meccaniche la Metrojet ha anche confermato che l'equipaggio non aveva inviato alcun messaggio per indicare che vi fossero problemi all'aereo il Cremlino a questo punto non esclude la pista del terrorismo un'ipotesi che torna dunque sul tavolo degli investigatori ancora esteri in un momento in cui si cerca un accordo politico internazionale per la stabilizzazione della Libia arriva un duplice attacco all'Italia l'accusa del governo di Tobruk di aver invaso le proprie acque territoriali e anche una nuova profanazione nel cimitero cattolico di Tripoli e è proprio di poco fa la notizia che il ministro degli esteri Gentiloni ha detto l'Italia comunque sosterrà il processo di rinascita della Libia sentiamo Silvio Vitelli un gesto vile per il ministero degli esteri italiano non c'è un'espressione altrettanto adeguata per definire la devastazione avvenuta ieri nel cimitero cattolico di Tripoli che ospita resti di oltre 8000 nostri connazionali un luogo sacro che era stato profanato già diverse volte in passato come quando i sostenitori di Gheddafi lo presero di mira come simbolo dell'Italia accusata di aver tradito il raiz durante la rivolta del febbraio 2011 questa volta a rendere più grave l'atto vandalico è stata anche la scelta del periodo quello nel quale gli italiani sono soliti recarsi sulle tombe dei propri defunti e non è l'unica coincidenza appena due giorni fa il governo di Tobruk quello legittimato dalle forze internazionali ha accusato l'Italia di aver violato le acque libiche così come riporta questo comunicato tre navi da guerra italiane sono arrivate nei pressi delle coste di Benghazi il governo libico avverte che non esiterà a ricorrere a tutti i mezzi che gli consentano di proteggere le sue frontiere e la sua sovranità territoriale la replica del ministero della difesa italiano è stata altrettanto netta la notizia è falsa twittano nessuna violazione di acque territoriali tutte le navi militari italiane operano rispettando i limiti stabiliti dai trattati le accuse di Tobruk sostengono alcuni a Roma sono forse un nuovo tentativo per far saltare l'intesa sul nuovo governo il riferimento è al piano di accordo politico dell'ONU che in quasi 70 articoli riproverà a stabilizzare la Libia ma anche all'accuse del non riconosciuto Parlamento di Tripoli che poco più di un mese fa incolpò le forze speciali italiane di aver ucciso uno dei più potenti boss del traffico di migranti oggi è il giorno in cui la chiesa commemora i defunti Papa Francesco alle 18 scenderà nelle grotte vaticane sotto la basilica di San Pietro per un momento di preghiera per i pontefici defunti domani invece alle 11.30 presiderà la messa in suffraggio dei cardinali e dei vescovi scomparsi nel corso dell'anno lo farà presso l'altare della cattedra della basilica vaticana invece ieri Papa Francesco nell'omelia della messa di ogni santi concelebrata al cimitero del Verano a Roma con il cardinale Agostino Vallini vicario per la diocesi dell'urbe ha parlato della strada per raggiungere la vera beatitudine che ha detto Francesco è un cammino difficile da comprendere perché va controcorrente la strada del Signore e quella dell'amitezza e della pazienza ha detto Bergoglio e intanto si avvicina al prossimo viaggio apostolico del Papa nella Repubblica Centrafricana di nuovo teatro di scontri e violenze nella capitale ieri all'Angelus il Pontefice ha annunciato che aprirà proprio a Banghi la prima porta santa del giubileo della misericordia il prossimo 29 novembre questo dieci giorni prima dell'avvio ufficiale dell'anno santo previsto per l'otto di dicembre sentiamo per manifestare la vicinanza orante di tutta la Chiesa a questa Nazione così afflitta e tormentata ed esortare tutti i centrafricani ad essere sempre più testimoni di misericordia e di riconciliazione domenica 29 novembre ho in animo di aprire la porta santa della cattedrale di Banghi durante il viaggio apostolico che spero di poter realizzare in quella nazione e con questo ci salutiamo l'appuntamento con TG2000 e per questa sera alle 18.30 subito dopo il rosario buona giornata buona giornata